Nonostante il downgrade di Fitch alle due principali banche tedesche, stamattina il DAX si muove in concerto, in coerenza con l'andamento degli altri future americani del mercato Globex e anche europei. Stiamo aprendo molto bene, le performance sono oltre l'1,50% sia per DAX che per Arostox e anche il nostro mercato pur zavorrato da un aumento dello spread dimostra una buona tonicità, il Fuzzimib aperto con un più 0,60%. Questa è la struttura grafica che in tutta franchezza sembra una struttura che prelude ad una continuazione e ad un'uscita da questa banda interessante, potremmo avere oggi anche il raggiungimento di target interessanti anche in area 10.200. La cosa che vi voglio far notare è però come stiamo lavorando questi pattern di prezzo e grafici e quindi di trend almeno in questo momento sul mercato azionario abbastanza long a partire da determinati livelli quali potremmo identificare la zona 8.800 per esempio i DAX consolidata molto bene in area 9.600. Faccio vedere come il sistema oggi vi aiuta a proteggere l'operatività. Nei file presentati vi sono chiaramente livelli di resistenza e di supporto da individuare, segnali da operare, da lavorare in controtendenza e segnali invece per assecondare il trend. Viene individuato un livello di rischiosità del mercato, viene dato ai segnali un rating, così uno può scegliere quello più interessante in termini di rapporto rischio rendimento da prendere. Vengono anche classificati i trend degli ultimi giorni in base a come il sentiment degli operatori ha accompagnato l'evoluzione dei prezzi. E per quanto riguarda DAX e Eurostox in generale un po' anche le borse cominciano a comparire dei segnali di breve ma che comunque vanno notati o di euforia, cioè di acquisti molto molto brillanti anche o effettuati su alcuni ritracciamenti di debolezza intraday piuttosto che comunque di tendenza a tenere il mercato bello sospinto. Il sistema dice anche e aiuta molto nella gestione operativa, guarda se sei in posizione da giorni forse fai bene a chiudere la posizione e se invece entrerai oggi tieni il trailing stop abbastanza stretto. Questo è un consiglio verbale. Però poi dentro il sistema questo consiglio viene anche scritto in maniera molto chiara e lo possiamo interpretare così. Guardate infatti il segnale che è partito ieri su DAX, Eurostox e Fuzimib. DAX ieri aveva un long 9,775, 10,134 il target e 9,162. Lo stop. Il rischio era più o meno sempre quello. Veniva detto sì cauto ma comunque non andare contro il trend di oggi. La giornata odierna presenta invece un livello di entrata lievemente superiore sia pur di poco. Veramente poco, 22 punti sono niente con queste volatilità e con questi prezzi. Vedete che il target è però più basso. E soprattutto mentre il target si abbassa si alza moltissimo, molto più il trailing stop. E infatti il suggerimento è quello di stringi il trailing stop. Quindi se da un lato la macchina lo suggerisce verbalmente lo mette poi anche nei numeri. Lo vediamo per esempio anche su Eurostox, 2,719 contro 2,722, segnali di ieri e di oggi. Il target 2,765, quello di oggi e ieri invece era un po' più ambizioso, 2816, si è alzato il trailing stop. Quindi un'operatività che il 24 marzo ha dato un long a 2.431 e che chiaramente aveva un trailing stop a 2.310, vedete come il trailing stop si sta alzando. Si è un po' abbassato ieri per far respirare il mercato, si è rialzato oggi. Lo stesso accade anche con Milano. Milano Long 16.000 14.720 Adesso il mercato piano piano tende a salire, siamo in questo momento a 16.780 E lui comunque ti dice Ti ho alzato nei giorni il trailing stop, te l'ho tenuto relativamente stabile ieri Ma vedete, a differenza di Eurostox che ieri l'aveva abbassato molto, Milano l'ha tenuto piuttosto vicino al trailing stop del giorno precedente Oggi lo rialzo, cioè il sistema è dinamico. Ogni strumento finanziario è gestito da singoli pattern di volatilità che studiano le specificità di quello strumento E ti ci vanno proprio a lavorare sopra. Ad esempio anche sull'America prendiamo il Dow Jones, dove il primo long è stato generato il 25 di marzo 20.678, 21.450, 22.269, 21.938, 22.045 Vedete c'è stato tra tre giorni fa e ieri un arretramento Oggi si rialza, il target però non si rialza e si alza molto il trailing stop Questo è proprio un segnale chiaro di non abbandonare il trend Lo vediamo anche su Nasdaq per esempio 7.700, 7.782, grosso modo un più 1% sul prezzo di entrata Non c'è un più 1%, un po' meno tra il target di ieri e quello di oggi Si è alzato moltissimo di quasi 300 punti Quindi di un 4% il trailing stop A riprova che puoi seguire e muoverti sul mercato Ma ci devi andare a lavorare con una protezione E nonostante che graficamente questo per esempio il Nasdaq Il trend sia un trend che sembra aver voglia di salire Questo non è assolutamente un trend su cui andare contro Se non in un intraday molto stretto Il trailing stop si alza E questo è importantissimo Perché non solo bisogna dare ai trader dei segnali operativi Ma bisogna dare ai trader anche degli strumenti Che in modo chiaro, semplice Ma proprio per questo estremamente efficace Suggeriscano una cosa che non è facile trovare Come gestire l'operazione Dove devo metterlo stop E se sono in posizione dove devo adeguarlo Che è una cosa che molto spesso è lasciata Come è naturale anche pensare all'istinto di noi operatori Ecco, la matematica ci aiuta a disciplinare questo istinto Fornendoci dei livelli che poi possiamo andare a verificare sul grafico Però avere una traccia Un navigatore satellitare che ci accompagna nel viaggio Secondo me può essere una cosa molto utile Buona giornata a tutti voi Buona giornata